eccoci qua ragazzi bentornati sul canale nuovo video sta succedendo di tutto in casa napoli io me lo aspettavo un tantino meglio me lo auguravo un tantino che dopo l'atalanta si prendesse la palla al balzo dopo la sconfitta per cominciare a mettere diciamo le cose a posto a livello dirigenziale e dove appunto il napoli doveva intervenire si parla di manna nuovo direttore sportivo notizia che è dappertutto quindi molto probabilmente mancano solo le filme e vedremo poi come andrà a finire con l'allenatore e il mercato che si dovrà fare in vista del campionato prossimo fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti ci confrontiamo anche lì iscrivetevi al canale per chi passa per la prima volta sotto questo video e gli piace il contenuto l'iscrizione che non fa mai male attivando la campanella delle notifiche e vi chiedo un bel like per questo video così diciamo ci portiamo il lavoro avanti per la prossima stagione detto questo manna dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo del napoli colui che tra virgolette ha curato la next generation della juve tanta cavetta anche se giovanissimo parliamo di un uomo di 35 anni però con già dieci anni di cavetta a livello dirigenziale tutta la cavetta tra forlì eccetera è arrivato a lugano dove tra l'altro hanno raggiunto anche se non erro una qualificazione in europa league il presidente del lugano lo presenta così giovanni manna è un giovane con tanta volontà e tante capacità ha fatto la cavetta a lugano è partito come team manager fino a diventare direttore sportivo è un personaggio che si relaziona molto bene riesce a comunicare con tutti dall'allenatore ai giocatori rispetto a tutti ed è capace di ascoltare lo scouting è una questione di conoscenza e organizzazione de laurentis è stato molto bravo prendendo manna ha preso un giovane e ci vuole molto coraggio scelta sicuramente coraggiosa scommessa ovviamente da vincere a me la figura non dispiace poi bisogna vedere se manna sia stato preso anche per creare o meglio riformare giovanili del napoli primavera magari una squadra da mettere in serie c come la juve next generation eccetera al momento però mi fa riflettere per quanto riguarda il il possibile allenatore che dovrebbe dovrebbe sedere sulla panchina del napoli per la prossima stagione si parla di italiano italiano a me non entusiasma ovviamente bisogna poi sempre vederlo all'opera con i calciatori che gli gli fornisci eccetera ma più guardo le squadre di italiano e più trovo quella sfrontatezza a volte inutile perché prendo di riferimento la partita con la fiorentina con il milan scusate fiorentina milan 6 1 a 0 sotto subito la pareggi dopo pochi minuti nemmeno è il tempo di assestarsi un attimo in campo che ti riversi completamente nell'area avversaria regalando poi il contropiede del 2 a 1 al milan e in determinate situazioni ecco dove non mi piace un tantino italiano e nella lettura del match c'è una sola lettura ovvero l'offendere e riversarsi nella metà campo avversaria ma molte volte senza ponderare un attimino scelte dinamiche e idee di gioco a partite in corso ci puoi rimettere tanti punti ecco la sfaccettatura che non piace di italiano conte sullo sfondo conte un'ossessione maxi ingaggio a quanto si legge offerto dal presidente dell'aurenti sono disponibile per quanto riguarda il napoli ci sono abbastanza soldi per fare mercato e per diciamo renderla fattibile la scelta conte perché la scelta conte implica carta bianca mercato che farà l'allenatore e soldi disponibili mai come quest'anno in casa napoli diciamo che le circostanze sono tutte a favore di questa possibile scelta o questa possibile ossessione o questo possibile sogno tra virgolette per quanto riguarda le casse e la disponibilità per fare mercato e far arrivare un allenatore come conte dove non avrai bisogno e non dovrai entrare più nello spogliatoio non dovrai più intervenire per quanto riguarda campo calciatori eccetera perché avendo un allenatore così è un direttore sportivo che riesce a placare per quanto riguarda mal di pancia improvvisi qualche sostituzione dove vieni mandato a quel paese arriva il direttore sportivo per un orecchio ti prende e ti fa riflettere quindi quando hai un organigramma ben settato tante cose vengono stroncate sul nascere tante cose in questo caso in negativo ovviamente non sto dicendo che il napoli prenderà conte nella maniera più assoluta è diventata un'ossessione più del presidente che del sottoscritto la cosa che mi va di mi auguro non mi va mi auguro che venga smentita è postanzini del modena è uscito anche il nome di postanzini se ma se manna dovesse essere una scommessa postanzini lo ancora di più ma non perché postanzini non stia facendo bene non perché al limite non possa far bene sulla panchina del napoli assolutamente però diciamo che a livello temporale prendersi il napoli dopo tutto ciò che c'è stato quest'anno diventa di una responsabilità immane che sappiamo benissimo che poi alle prime stecche cominciamo a dargli addosso e non lo so se postanzini possa avere poi le spalle abbastanza larghe già per poter appunto allenare in una piazza come napoli non lo sto bocciando non sto dicendo che un allenatore scarso nella maniera più assoluta però opterei per altri profili e che postanzini poi possa farsi ancora le ossa crescere diventare pure il migliore allenatore d'europa a me interessa ben poco ma non credo che sia il momento di riscommettere tantissimo a livello di organigramma societario parlando di allenatore direttore sportivo eccetera eccetera non si tratta però di un furto alla juve come ha scritto tutto sport bensì uno scambio perché pompilio dovrebbe finire appunto nello staff di giunto le a torino quindi pompilio manna e siamo tutti contenti per quanto riguarda le recensioni di chi ha lavorato con giovanni manna sono tutte positive vedremo poi quando ci saranno le firme perché non c'è ancora niente di ufficiale vedremo poi sul mercato come ci si muove perché ovviamente si sta già sindacando allora prenderemo tutti i giovani tutte scommesse così non facciamo mai niente così non andiamo da nessuna parte calmi e vediamo poi come si muoverà il napoli sul mercato cosa farà il napoli per quanto riguarda i prestiti che sono in squadra calciatori che andranno via si è letto oggi di un di lorenzo e si sta facendo la premier tra manchester united e aston villa è una notizia ma la prendiamo con le pinze perché poi la verifica ancora non c'è stata e non sappiamo quanto ci sia di vero per il momento però a livello temporale sono contento di questa cosa che si sta prendendo prima il direttore sportivo e poi si prende l'allenatore cosa che doveva essere fatta anche posto scudetto invece posto scudetto prima è arrivato l'allenatore e a fine mercato abbiamo preso il direttore sportivo andando poi mandando poi il presidente in primis a fare mercato abbiamo visto come è andata a finire la situazione cabrivega anche se le parti in gioco sono tante e non è solo colpa del napoli se non è arrivato il calciatore all'ombra del vesuvio detto questo va benissimo a livello temporale mi auguro che la scommessa del direttore sportivo venga vinta perché non possiamo più permetterci di di steccare altrimenti dopo un'annata del genere rivivere momenti attalenanti una stagione dove puoi raggiungere o o meno l'europa perché non siamo nemmeno tanto sicuri di arrivare tra le prime sette per come il napoli per come sta giocando il napoli ad oggi non lo so come andrà a finire vedremo poi a fine campionato se riusciremo ad entrare anche in una conferenza perché l'ho già detto sul canale e lo ribadisco a me di far la conferenza non dispiace non sono uno di quelli che diceva la conferenza una coppetta ma che ce ne facciamo assolutamente no anzi un trofeo che potrebbe essere poi tra virgolette perché non sono nemmeno uno di quelli che diceva bene tanti siamo più forti la conferenza la possiamo anche vincere assolutamente no competizione molto lunga i giochi giovedì campi strani squadre che sono di bassa classifica nei vari campionati o meglio di bassa classifica per quanto riguarda la qualificazione in europa però avranno comunque come unico palcoscenico la conferenza per mettersi in mostra quindi non è tanto semplice come coppetta o come la definiscono alcuni e poi in una bacheca dove di trofei ce ne sono pochi perché no cavalcare un'annata dove giochi in campionato la conferenza la coppa italia non sarebbe male visto poi quest'anno che è andato malissimo a livello di risultati fiducia a manna speriamo che arrivino le firme e le certezze quanto prima che non sia una situazione come gabriega ma non credo perché l'hanno data dappertutto la notizia anche i più grandi esperti di mercato che è vero anche quest'estate hanno preso tantissimi granchi a livello di notizie e il napoli si sta ricostruendo primo tassello che verrà messo a punto e vedremo poi chi siederà sulla panchina su italiano sapete la mia conte nel caso dovesse arrivare ben venga un allenatore che abbia carta bianca e gli si dia carta bianca perché conte vuole carta bianca ma dobbiamo vedere poi se ci sono le condizioni altrimenti non firma proprio al di là che sia conte italiano francesco nicola o gennaro che venga a napoli un allenatore che riesca ad essere anche burbero a volte quando la società o chi per la società si intromette in fatti che non gli riguardano il campo all'allenatore lo spogliatoio all'allenatore e al direttore sportivo la società faccia il suo non è una cosa difficilissima l'abbiamo sempre fatto anche se il presidente ha sempre avuto l'ultima parola vuole fare il padre padrone come dicono tutti può anche darsi però le annate che sono andate oltre le aspettative sono sempre quelle dove allenatore direttore sportivo e squadra talvolta hanno anche rispedito al mittente interventi della società che voleva una cosa piuttosto che un'altra invece pugno duro io sono l'allenatore e io decido in base a quello che ho a come stanno i calciatori eccetera perché di fare allenare dirigenti in società o un presidente che ne capisce molto meno di chi siete su una panchina non mi sembra il caso e poi commetteremo lo stesso errore di quest'anno detto questo fatemi sapere la vostra sempre forza napoli ciao